Siamo qui con Fausto Manzana di GP e con lui vediamo immediatamente come si è chiuso l'esercizio 2016 per la società. L'esercizio si è chiuso come da piano, siamo arrivati a consolidare 136 milioni di euro di fatturato e un EBITTA in linea di circa 22 milioni di euro e un risultato netto intorno ai 6 milioni di euro. Un risultato soddisfacente ma che evidentemente sconta anche in parte l'impegno della business combination e degli ultimi sforzi resi necessari per le acquisizioni. Appena parlato di acquisizioni, quali sono le strategie future della società? L'idea nostra è quella di proseguire sia nel nostro percorso di crescita sia per quanto riguarda le linee esterne che per quanto riguarda una crescita maggiormente organica. È il motivo che ci ha portato alla quotazione, quello di acquisire all'interno della nostra società le risorse necessarie per acquisire sia in Italia che all'estero e per quanto riguarda il nostro mercato domestico riuscire a consolidare ulteriormente qualche altra piccola azienda, qualche altra realtà per proseguire in questa nostra crescita per linee esterne. Poi certo, noi partecipiamo costantemente a dei tender, a delle gare e puntiamo a crescere anche per la nostra proposizione sulla nostra clientela. Parlando di acquisizioni all'estero, a che aree geografiche state guardando con maggiore interesse? Noi stiamo guardando con maggior interesse il mondo UK o USA per poter da lì rimbalzare in giro per il mondo. Il software per la sanità è un software peculiare, specifico e diciamo che la maggior cultura l'abbiamo vista in quegli ambiti, in quei mondi. Il software per la sanità è un software peculiare in giro per la sanità è un software peculiare in giro per la sanità.